Se vogliamo un cornetto molto bello, dall'esperienza personale, da un 42, 45, 50% massimo di idratazione. E abbiamo incassato il nostro burro. Vi consiglio di dare dei colpettini alla parte finale, in modo tale che sia ben incassato e quando andiamo a lavorarlo il burro non si ritiri. Prendiamo un foglio di carta A4, andiamo a metterlo sopra per la metà, ecco, un pochettino di zucchero a velo per metà.